Sanità malata, due storie da raccontare. La prima storia è quella dello stop in tutti gli ospedali molisani degli esami e delle analisi di laboratorio in Tramenia. Si trattava della possibilità per chiunque di recarsi ai laboratori ospedalieri e pagare direttamente il costo dell'esame, effettuandolo immediatamente, senza ticket e senza file al CUP per prenotazioni e pagamenti. In sostanza una scelta libera di pagare per fare un esame velocemente per motivi d'urgenza o per qualunque altra ragione. Invece i vertici dell'ASREM hanno sospeso gli esami in Tramenia in tutto il Molise. La conseguenza immediata è questa. Gli utenti che hanno urgenza di effettuare esami e non possono attendere i tempi infiniti delle prenotazioni ai CUP andranno nei laboratori privati provocando non solo guadagni per loro ma perdite consistenti per la sanità pubblica. Perché questa decisione è contraria ad ogni logica? La seconda storia è sulla stregua della prima. I laboratori dell'ASREM, l'azienda sanitaria del Molise, non effettuano esami sierologici, quelli che servono a verificare se nel sangue di una persona siano presenti o meno gli anticorpi per il Covid-19. Anche qui stesso discorso, basta andare in un laboratorio privato, pagare un minimo di 50 euro e in poche ore si sa se nel nostro corredo immunitario ci sono anticorpi per il coronavirus. Oppure andare a due passi dal Molise, in Abruzzo, dove i laboratori ospedalieri effettuano regolarmente un esame che tanti medici consigliano prima della vaccinazione con AstraZeneca. Il bello è che i laboratori ASREM avrebbero anche acquistato i reagenti per questo tipo di esami e anche qui la domanda è ma perché succedono cose del genere? L'ASREM farebbe bene a chiarire e soprattutto a sbloccare entrambe le questioni. Se ci sia una regia non si sa ma la conseguenza è che si continuano indirettamente a favorire i privati a danno del pubblico e oggi aprire un laboratorio di analisi in Molise di questi tempi è un vero e proprio affare.